Ma che è sta canzone? Ma perché? Ma che è? La canzone della Ibalel Ma è schifo La canzone della Ibalel Basta Ma si sente? Si, si sente Bene, bene, bene Allora Vai, io ci sono Ci sei? Yes, man We need to go and calculate to do that That's not true That's not true That's not true Oh, shit Jesus, fuck, grenade up Senti come fa Oh, shit No, non mi va tanto bene la missione internet nel telefono Perché? Non lo so Ciao spettatore numero 2 Uno sono io L'altro chi è? Io no Eh, allora Ciao spettatore Ciao spettatore Alello No, no, no 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 No Passati il treno bellissimo perché siamo stronti a frapp siamo dei pezzi di merda dai 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 per favore di di o per favore di di o che cazzo ne so a lesbica la frappe aspetta lascia il gruppo si è annullato invito non va cazzo ne so perché non va se entro è entrato via ecco 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 non so perché non andavo vediamo se vamo se no se no se gioco una merda che una merda siete delle merda è zitto è proprio oggi non va è la coda piena no no aspetta previsto in attesa di server matchmaking non ha trovato un cazzo giocatori in coda 3.929 persone in coda cazzo è creato e 10.000 server 3.939 gente in coda ora cazzo sto salendo 4.492 3.392 3.392 ah ma sale e scende e noi siamo stronzi a pratica non ci mettono a noi siamo stronzi stronzi dai a vieni matchmaking in attesa del server oh ma è una soccola la mamma di portmine non è chiamano diciamo eeeh fa ah facciamo cosi facciamo cosi fate che non mi annullamo manco manco a me a nulla mancola a 2.800 possiamo ci mettiamo aspettiamo ai 5 minuti se non vai 5 minuti usciamo e vediamo in singolo se va ecco invece invece vedi vedi che va pratico tu non mi crede non mi credevi che andava invece è andato infatti stiamo 100 presidi che troppo pieno non prende l'aria salut andiamo basta va bene ho capito qua ancora gioco a carometrica 1 stai giocando? no lo sto scaricando eh se vuoi dopo ci possiamo giocare si io ce l'ho ma si può giocare tipo in coppia? no però lo dovevo non mettere la modalità coppia si può giocare in 5 ah boh ma giusto per provare si può fare ah boh io e te contro con altri 3 si hai visto qualche stronzo? tu? no io no, tu c'hanno una frighe di casse Alel ok ok ho visto una jump non l'avevo io ti dò te lo ho visto è che trovo no c'è qualcuno proprio non lo so lo sento sono io no no ce n'è uno ce ne sono due bravo bravo uno l'ho ucciso all'altro mi ha scritto da dietro ora non c'è più nessuno e ci mancherebbe se benda ma di bene ancora più o niente allora le 13 so prendi questa allora mi scolo tutto lo sluts si si non c'ho manco le armi per grattarmi la coccia aspetta vai vai tranquillo 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 piedi guerra no ce l'ho un m4 no ce l'ho ce l'ho vai prendi prendi e allora e ora lo trovo ah bello il medici si 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 dopo dammelo se c'hai spazio io non ho visto una casa allora qua ho fatto questo ora qua mmm che n... no allora io sto guardando da sopra non ho visto niente di che no penso che ci arriva beh male male ma hai visto per caso un pompa in più? si ce l'ho io che è qua arrivo giocando a basket con gli amici ti porto la palla aspetta no no se n'ho andato mica mi... c'hai munizioni? di che? del pompa ce ne ho quindici me ne dai tre sì no in quattro grazie eee dobbiamo andare mhm ci sei entrato qua dentro? eeeh si si andiamo andiamo che ci abbiamo tempo vabbò ci non siamo lontani no di chi è? prendi il carrello dove sta? non sta di qua di solito? no vabbè andiamo allora andiamo andiamo ce l'avevano quelli vabbè allora andiamo ok passiamo per di qua un po' più di qua e passiamo di qua così intanto ci prendiamo qualcosa se vedi qualcosa che ti interessa graffala ah però mi sa che ci sono stati qua o no? si e no quindi no si ci stanno le possesse vai prendi quello che ti capita si ci sono stati che c'è una costruzione qua qua però c'è un caccia blu qua però c'è un caccia blu prendi qua io vado non si ci sono stati ma non hanno preso tutto tutto non mi sembra nulla di che non mi sembra che erano pure quei due che si potrebbero romperci le sue no 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 occhio chi le hai viste? costruzione di là eh no vabbè non ci sono vai vai io ho delle viste io ho delle viste tu ce le hai? ho delle pozzette giulio che risposto giulio? aspetta a lui io sono delle cammini mosso alle 3 e mezza alle 3 e mezza alle 3 e mezza vabbè se ci sei ancora qui si si stai attendo al motel che stanno sicuramente qua eh si a lei è la prossima ci sono stati ma eh non so se ci stanno ancora so che mi prendo quel fucile a bombo alla che mi custa ok almeno c'è anche un po' più colpi qua corri guarda ci siamo arrivati pelo pelo forse io sono arrivato eh io si dai ci arrivo stai attendo che stanno qua sicuramente eh infatti li vedo stanno a sud est dietro ho la fenile hai visti? si ci facciamo vediamo vediamo culo dove si è chiusa la sera perchè sembra in culo al mondo si chiude? guardiamo verso la sinistra sinistra? andiamo verso la sinistra ma lo stai attendo eh? guarda sempre davanti cioè verso il fenile non stai giudendo la cara si si no io non c'ho manco le costruzioni io non c'ho manco le costruzioni ci sta una cosa blu là vorrei capi che cos'è ah niente le palle esplosive dove sono andati? eh sto cercando di capire eh non so che sono andati qua hanno preso tutto? si si hanno preso tutto vieni con me vieni no io non c'ho un fucile d'assalto non c'è fucile d'assalto non c'è fucile d'assalto no ha una vitalietta e un proprio di fucile aggero questa zia addirittura che è schifo allora dobbiamo fare da con qualcuno ho chiuso con lui ma non l'ho trovata ho visto pure dentro le case dove siamo passati e hai detto c'è qualcosa che ti interessa, quello che mi interessava era che era un po' di assalto, ma pure è bianco. Vediamo se sta qua. Eh però pure qua ci sono stati. Si. Palle oh. Si trova una casa. Per finire che ce l'hanno lasciata. Eh va a vedere. No ci sta un'arma qua, un bump, ci sta. Vai vai. Si, bene. Da sopra c'è un altro bump. Questa altra casa mi sa che non ci sono stati. No, non ci sono stati, c'è una cazza. No, no, no. Tu hai spazio? Lo prendo io. No, no, no. Non devo se lasciare. Vabbè dai, prendo io, andiamo, andiamo. Mi puoi andare. Sta' attento, eh. Non boccato ci la facciamo. Ah si si lo so però sta' attento. Quasi sono stati. Si si. Che cos'è quello? Quindi si. ci sta un medikit lo riesci a prendere? veloce 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 sta la guarda dai veloce prendilo e scappa e che cazzo? io non c'ho materiali io ho 164 vorrei andare a vedere troppo oggi ci sono stati sicuro dove sei andato? ci si è fatta a vedermi qua non ci sono stati qua proprio no 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 ci sta un m4 verde che schifo se vuoi c'è un m4 verde arrivo arrivo tienimelo da casa è stato dentro il camion centrale no no vai veloce che dobbiamo andarcene da qui ancora viene qualcuno ok non 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 pozzetta sotto ma io non la posso prendere stacco le pozzette tolvo le pozzette no ci stanno pure delle pozzette qua meglio le pozzette vieni 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 qua 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 vieni andiamo vieni a sopra questo mondo anzi no stanno costruendo dove? costruiscili costruiscili aspetta che vengono un attimo di più idea che è stato scoperto ma Lello non è che possiamo fare chissà che cosa eh lo so frappo ma così ci devastano ci devastano ci devastano ci brutalizzano non è che ci devastano vedo se mettono la goccia fuori ok si stanno fightando li vedi da dove si stanno fightando assolutamente no sono unicolo in un altro modo parà quello la che sta sotto con cosa no 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 allora se non ce l'ha non ce l'ha il cucito la cecchino e io penso che ci sta salendo a culo lo uccido no 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 hai qualche trappola tu Alello? no non ce l'ho stai attendo sopra ok uno atterrato vieni pusha pusha ci sono altri però si lo so è un altro falli fuori la torrezza spara la torrezza ok sono morti sono morti sono morti sono morti stai attendo non ci sia che non c'è solo lui no no ce ne sono altri? si li sento ma si stanno a sparare? no faccio cadere tutto per vedere se c'è qualcuno ok è morto si si l'altro no ok noi contro uno contro uno costruisciti aspetta fammi prendere un po' di roba poi c'è un cecchino che ti interessa vai prego costruisciti è un materiale lo so monica uguale non c'è acqua Sarà dietro a qualche albero Bene Ci chiude a sinistra No, siamo noi Sì, sì, sì Quindi si dovrà spostare se sta di qua Alla tua destra Allora, io vedo Uno vede da un lato e uno dall'altro Sennò Sì, però se sta centrale ci c'è chi No, no, tu, uno vede dietro da un lato e uno vede da un altro lato Allora, io vedo verso l'alberi Gli alberi? Quali? Ah, forse lo so dove sta Forse dietro sta torretta qua Sta montaglietta qua Ah, no, guardate Forse, perché ci sono le costruzioni Ah, no No, 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 no Non dico cazzato Vieni in sesso Vabbè, comunque dovete venire per forza in sesso Guarda dove stiamo Sì, sì, sì Io non lo vedo Eccolo Ah, no, sei tu? No, comunque Sì, sì, sto costruito Sì Vaffanculo, frapp Dai, veloce, costruisciti Bisogna un'alberto Sto vedendo una nuova No, no, sto vedendo se stava dietro a qua Tu c'hai i melli? Sì, però, spara frapp Ma è meglio che mo' tanto Pochi colpi Ci sono cinque colpi Ci bastano, ci bastano Vediamo dove si nasconde Eccolo Sta a essere Dietro Dietro le cose Ok È morto, mi sa Spara, spara Eh, non ce le ho più i razzi Adesso C'è i colpi del lanciarazzi? No, Ale No Sì, ce li ho, ce li ho, ce li ho Oh, io l'ho colpito due volte Stanno qua Quindi mi vuoi dare Mi vuoi dare Vabbè Non so che sia però Dai, lo l'ho fatto due volte Eh, aspetta BOOM Sì Sì Tu c'ho Number one Prima partita, prima vittoria Buono, buono Io l'ho fatto Io sei No, tu non lo so E' uno Ah? E' uno E' uno Una Basta, solo questa Vinciamo Chiudiamo Eh, comunque quante kill l'avevi fatto tu? Io solo sei, ne ho fatto Una Ah, vabbò, dai Una o due, me l'ho messo Eh, quella iniziale sicuro Ah, vabbò, sì Devi t'ho salvato Sì, sì Mi ha imbattito Salvatolo Io ne ho uccisi Quattro alla fine Praticamente Eh Gulo, guarda le persone in attesa Mi sa che dobbiamo aspettare No, è un casino Non capisco il perché Però l'ho eliminato col fucile Perché non mi ha dato eliminazione al fucile di precisione Ho eliminato quella sulla torretta Boh, guarda Perché forse l'ha arrestato No, no, l'ho ucciso Non l'ha arrestato perché E' morto subito dopo Cioè nel senso Io l'ho ucciso dopo Quell'altro subito Boh, c'è 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 Qua I giocatori stanno ricostandrando problemi Durante il match time Quanti mesi ci stanno Stiamo lavorando Boh, noi continuiamo intanto Finché non ci entra Tanto Si perché ci sta una frega di gente La coda è pina, vedi C'è una frega di gente oggi Non capisco perché Non capisco perché Senza non è scaduta Si, mi ha fatto Che vogliamo fare con l'altro gioco? No, riproviamo No, riproviamo Eh, perché se devi fare un altro gioco Devi chiudere qua Eh, vabbè Chiudiamo così Non va Eh, non va Mi sa proprio Riprova Eh, mi fa Annullato però Non me lo fa start up Mi capisco il testo Oh, spennato Niente Ah, riproviamo L'ultimo L'ultimo Se non va Facciamo l'altro gioco Che chiudiamo qua Stando la vittoria Abbiamo fatto Sti cazzi Quando è durata Sti live Non lo so Che ne so Una mezzoretta Sti che ne so Aspetta Forse è andato Ma perché tu Aspetta Infatti tu non stavi pronto Oh, oh Stiamo ricevendo rapporti secondi Bellissimo Oh, oh No, niente 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 Non va Mi ha annullato Facciamo l'altro Dai Dai K1 Z1 Io Ho mai giocato Manco io Ci ho giocato Mezza volta Ci ho giocato Vabbè No, ma io Non ci ho mai finito Finito Eh, quasi finito Ah, finito? Quasi Ah, buono Noi proviamo Continuiamo Provo Qua su Fortnite Se non va 10 minuti Inizia a calare Come scari Io mi continuo Mette pronto Eh, continuiamo A mettere pronto Eh, no Ma l'hai tolto No, no Io l'ho messa È messa Ah, ok Allora rimettilo Aspetta Vai Sennò facciamo A squadra Con due barboni No, niente Vediamo A squadra Nella nulla Provo Aspetta Mi ha annullato Mi sta Fai Premi Pronto 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 Non lo fa Premi Dimmi Quando te lo fa Premi Adesso Aspetta Non lo premio Vai Premilo Niente Abbiamo avuto Problemi Come No Mi fa Sì Mi fa Pure E Proviamo A squadra Dai Vediamo Se Raccattiamo Qualche Barbone Se no Facciamo Quello La A squadra 20 20 Squadra Proviamo 50 50 No E 20 Da 20 Sì 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 No Ma pure A me Però Aspetta Forse Qua Va Ok Forse In gioco Nessuno Qua Ci sono Poche Persone In filo Sì 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 Eh no Non so Vengono qua Vediamo che punto sta Niente Membro del gruppo Disconness Ti sei disconnesso? Non mi sei disconnesso Sto qua Sto qua Sto qua Che cazzo ne so Mi fa Un po' Disconnesso Io ho messo di nuovo Pronto Vediamo San culo Tutti i bambinetti Che vengono a giocare No Non è vero Forse i bambinetti Siete il più pro Iscrivetevi Eh Se vedete Sto video Vi voglio bene Mi sa che non va Ah ecco Vabbè qua Easy Divertiamoci A frappo Qua proprio Possiamo divertirci La nostra squadra È fatta da Sette persone Sei persone A frappico Ah no Mi ha messo No Mi ha messo Separato dal frappico Allora Allora Eh Volto due Eccomi a frappico Sto arrivando A frappo A frappico A frappico Allo A frappico Benvenuto Una cosa Cioè Oh oh shit Dovano scrivere shit No no Sei cretino Oh oh shit Stiamo ricevendo rapporti Stiamo ricevendo rapporti British British Stiamo lavorando Secondo Secondo i quali I giocatori Batch Stanno riscontrati Problemi Non temere Stiamo arrivando A bebe Non temere Batch Stiamo arrivando A bebe Sinceramente Non abbiamo La minima Non abbiamo La minima Che cazzo Sai come funziona Ma ti funziona quello Se no Facciamo l'altro gioco Cinque minuti Eh dai Allora Continuiamo a saltare Se non va Vai vai A frappe Premi pronto Se no Ci incuro Stavo a guardare Un po' di emote Ma perché stiamo a provare qua Stavo a provare qua E' perché qua è meno pieno E' meno pieno E' beh Si vede come è meno pieno E' No ci stanno veramente Meno gente Vedi che prima Manco ci faceva fare l'attesa Ci uscita subito La cosa Almeno qua ci fa fare l'attesa E' un po' di emote Adesso Ragà una domanda Le domande Le domande Le domande di più Fantastiche Ma tu serono Adesso è gay? Ahahahah E' benissimo Io e il mio amico Di Corato a giocare E chi è di Corato? No Che è di Corato? viene da corato a che mezzo il cognome era decorato ho scelto siamo dentro ma perché li adesso no più poverino perché un amico decorato io non li voglio decorati è facile guarda un po facile premix mentre stai sul cerchio cioè prima che vai sul cerchio un poco prima guarda io faccio un po più alto guarda gli autobus buttiamoci qua dai andiamo amici siamo sette si ah boh qua è giusto è giusto per divertire dove stai tu scusa dietro davanti a te dietro ora vabbè sto alla casa attengo a sinistra tu parello devo fare il devasto devasto totale eh adoro ah vai vai mancano solo 32 persone madonna ho già vinto oh shit ho trovato solo munizioni non hai trovato munizioni ho trovato solo munizioni appena mi arriva una pistola con 128 colpi buono si però si però oh una scala una scala una scala un palò un palò un palò ah pensavo che c'era entrata segreta qua invece non c'è l'entrata manco per quattro no che ho tolto oh si no oh ma stiamo dentro la safe col cazzo ti troverò entrata segreta vabbè io vado alla casa a fianco proprio mi sto spacciando non so dove si vabbè parello guarda ah tu stai vieni alla casa quella dopo dopo non perché quella già l'ho fatta oh è già è fatto tu fatti sta casa io faccio quella a fianco così che facciamo prima cazzo ah vai prendi tutte le casse che vuoi ma che hai fatto non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è perché mi piace quando tu lo metti no dobbiamo andare dobbiamo andare fra un po' oh qua qua ci stavano anche i morti ci stava niente porto due c'è 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 tu qualcosa che fa non c'è non c'è miseria dobbiamo andare proprio sì un attimo solo uno poi ci stanno altre case eh lo so proprio ma eh siamo lontani troppo il bunker puro c'è una frega di munizioni sì io io pure vabbè io mi avvio proprio perché tu sei lento arrivo 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 se no moriamo guarda là prenditi delle pende aspetta io ho le meriti c'ho il medico io ho la jump la uso sei pronto? vieni da qua usalo da qua vieni no no vieni con me vieni da qua vieni con me è veloce però no tu veloce no aspetti eh lo io l'ho già uno no Siamo comunque lontani eh? Siamo comunque lontani eh vabbè però intanto vedi non c'è se stavamo là già ci avevamo ammazzato Ma che ammazzato Alello? Eravamo arrivati eh due passi in posto attenzione sette contro venti sette C'ho il falò, mediti te bene, un fortino portatile... Ma devi... devi... devi fare pure agli altri eh? Lo so... Devi prestarlo pure agli altri Mi batto le palle degli altri Alello, gli altri non sono te Grazie Frappo, queste sono le parole che mi... mi detti Vai fatti sta casa Frappo C'è una casa E' mia Tento spari Eh... Aspetta... dove? Dritto a me risa uno l'ho visto Ci sta andando con lui con la jump Mori tutto Ci vuole andare Dove sta? Eh, stava di fronte ma... Cazzo lo faccio Allora, qua c'è col cecchino Ma lo stupriamo Anche se dovremmo iniziare a morire Sì No, no, è morto penso Eh, pure secondo me è quello che ci stavo a dire Ecco... no, 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 mi conosco Ecco... Oh, cecchino, finalmente Troppo, c'ho due fortezze là Eh, uno l'ho lasciata io Eh, non ho preso l'altro Uno se n'è andato proprio No Cazzo Scusa, do cazzo Allora Dobbiamo andare proprio Sì, aspetta un attimo che devo fare una scelta Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni veloce Vieni veloce C'è la jump No C'è una cosa che stai Vieni veloce Eh, si andiamo però Andiamo andiamo, grazie Andiamo 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 veloce Le band le lasci No, no, prendile Eh, un c'ho il medit e c'è già bene Vai vai vai, allora andiamo andiamo Eh, mi sa che moriamo male Ad ossa la giampa di Cullu? Eh, sarà fuori dalla safe Ah, cazzo Allora, preparati a curare Minchia Va a una velocità imbarazzante Ah, se si chiude bene la safe io ce la faccio C'ho 15 band e pure il bibitone Cioè siamo rimasti noi due più uno che è morto Cioè praticamente sta atterrato Contro 19 persone Bene, quindi comunque siamo in duo Sì, però contro 19 persone di un gruppo Cioè no, di un gruppo Di vari gruppi Eh, però siamo sempre in minoranza E siamo comunque morendo dalla safe No, non ci moriamo Tu c'hai il medic Sì, c'ho le band Perché ti costruisci? Perché non lo so Oh, sono morto, ma perché? Ma perché toglie così... Ah, ma toglie così tanto la safe Eh, vabbè, sì Io non lo sapevo, allora... Siamo arrivati i quinti Su cinque Che schifo Allora, mi metto la modalità normale Se non va... È partito il gioco? Sì Ok, vedo se qua non va... Andiamo Primi pronto E chiudiamo la live Di questo Ragazzi non vi preoccupate Ci sarà un'altra live Non vi lasciamo se volete Riempi con la stessa piattaforma Il giocatore contro la stessa piattaforma Ok Sì, però Può essere che andrà Oh, chi lo sa Lo scopriremo solo Vivendo Adesso No, no, no Paura Momento quiz E come sto mangiando? Ieri ho indovinato la Red Bull Oggi... È mastica? Aspetta È partita È partita Non ti ho sentito Allora, una cosa dura Quindi può essere O le noccioline Le noccioline Bravo Bravo È vero? Sì Non è vero Ma tu mi freghi sempre Dici che è vero Non ti prendo la voce Allora, sono un indovino solo Ti invio pure la Red Bull di ieri Come cazzo faccio? Cazzo di cane E andiamo a Tometo Sauno Tranzi a rapida e rischiuta Voglio rischiare a rapida e rischiuta Voglio rischiare a rapida e rischiuta E... Non è vero E triunque E via vedi gente? no stranamente manco io ma prima ci hanno portuto invece no prima non li abbiamo visti non ti ricordi sono quasi già tutto armato mi manca un assalto e sono armato di tutto oh mi lagga pure a me eh mi sa che sei server al fondo si si ha stato sopra sta puttana poi ci sta l'assalto adesso che ci sta la scar? no ci sta solo per te vanto a verde eh no non lo so aspe cerco un po' e dopo se mi torno a prenderla guarda la guarda non ci arriva penso che mi serve posso andare anche un po' più di tranquillità tanto ci siamo nella sega oddio sto cercando ovunque ah che bello sto fucile a pompa a blocchi però mi raccoglio munizioni eh fottio forse mi serve il... c'hai pozzetta? no no allora mi prendo il pompa mi bevo il pozzetto no oh sto tolto eh niente sto a bere pozzetto mi sei tolto c'è una cosa a blocco qua ok andiamo alle case qua vicino i polari l'ha già ci sono stata proprio ecco quella è qua 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 scusa fanno qua e là dopo quella è una casa? e www.*** c'è vanno per c'è c'è tô ci stiamo incaiando vai all'altra porco giù andiamo a questi altri a questi altri Oh, non vero, gente Oh, Jesus No, shit Allora, io vado a questa qua Io vado a quella verde e tu vai a quell'altra Va bene Come stai messo di materiale? Ah? Come stai messo di materiale? Ah, merda Perché? Tu com'è stai messo? L'ambrerlo Allora, che me lo chiede Ah, comunque ho trovato il lanciato a me No, vai all'altro Ti hai fregato la casa Ma che c***o? Ci stava niente, Toro Quella guardata, non ci crede Ci stava niente Infame, perte solo le lame Allora, ti lascio Il cucinio della caccia blu se vuoi No, no, ce l'ho il cecchino Dai, vai a prendere sta cassa Proprio qua, guarda Già l'avevi presa se costruivi qua E' arrivato prima di fare Vai, prendi Che ti dice niente Il jet spazzo lo vuoi? No? Andiamo Andiamo E andiamo ad Ad archi anarchici Ad acri No, ad archi Che bello Come sono dislessico, lo posso dire Chi è? Chi è? Chi è? Ci è la neva, che bello E' una scuola Allora, dove sono? Dove sei? Qua Si legge il nome? Lo so Lo so Lo so Ok, c'è stato qualcuno Qua Vedo se ci sta ancora qualcuno Io sento un eldro Si, ma non so dove Si, eccole qua sopra Però, vedi che è vicino Allora Guardate Guardate, sopra Andiamo Abbiamo un obiettivo Abbiamo una meta almeno Eh, ma non so se è vicino Penso che era vicino Qui c'è, è abbastanza lontano Guardate a destra Un culo Un culo che è lontano Guardate a destra Si, si Vieni al fondo Vieni al fondo Vieni con me Che bello Che cosa c'è qua Cazzo di niente C'è un cazzo Allora ci andiamo a fare un bello salto A tomato town Nella prossima puntata Nella prossima puntata Stalla l'airdrop Andiamo Eh, però Mi sa che l'hanno vista un po' di persone Chi si aspetta? Dai C'è due a l'airdrop Stalla l'airdrop Dai Chi si aspetta? O la prende? Un attimo Dai Sì C'è due a l'airdrop Dio Voglio la scarpe Voglio la scarpe Che bello E' esploso fuori E' niente scarpe Uno bello schifoso Qua è che lo prenderei? Affanculo Arma più brutta che esiste No, infatti Ti tengo il fossile Da casa Ma c'hai band 15 C'hai lanciarazzi Qua non c'è stato nessuno ancora Aspetta che ti vengo a vedere Mi sa dissi però Vieni qua C'è il cecchino per te Sì Do stanno Non capisco perché si Così Si è così Il ruendo Eh per forza Proprio Sei stato sopra Eh sì 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 Stai attendo? Sì 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 Aspetta Ti do spari Aspettami Sì sì Sto vedendo dove stanno Non capisco dove stanno Quello l'ho fatto Io lo so Secondo me Dove stanno Non lo faccio vedere Che stanno Ok Ecco appunto Ecco stanno qua Guarda Stanno verso 300 Non ti fa vedere Non ti fa Basta Sto sparando da dietro Che non mi vedono Io che li ho visti Guarda Ne vorrei Beccar Stanno a 300 Stai tu L'unico punto Dove Dove Da bene Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Ah ok Io lì Ma che non vai a vederli Ma quanto ti vorrei prendere Eh ma sono abbastanza lontano Andiamo di qua Vieni sotto al ponte Non mi vado di affrontarli Sì Sì Sempre se sotto al ponte Non ci sia già qualcuno Andiamo a scoprirlo Non mi vado di affrontare quelli So forse Ma questa mi serve assolutamente Sali sopra le scale Sali sopra le scale Sì 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 Ok saliamo per le scale Ok Ora che sali Guardati dove stavano quelli Non mi ricordo dove stavano Tutti diamine se lo ricordo Ok verso di là Guarda Li vedi? Eh 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 Ma stanno là ancora? No Mi vedete che sono usciti Quale è lì? Eh quelli che erano forti Porco due Se li incontriamo Ci devastano il culo L'unica cosa E sto messo Mardò Con i materiali Vieni con me Ma mi prendo una cerchinata Grande No Qua non Ho un commento Un commento tattico Chi è? Grande Francesco Quello là del mio palazzo Sì Sì Grande Francesco Dimmi 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 che li caccia il rosso Se li con me Eh? Dimmi che li caccia il rosso Se li con me Non lo distrugge? No 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 Ti senti? Diglielo tu Ah sta sentì? Eh sì Francesco Oh eccoli Stanno nella casetta rossa Carcellino rosso Alla prossima Casetta rossa quale? Casetta rossa At tomato town Yes E sono quelli là di prima Però non li voglio affrontare Mi sembrano troppo forti Ce li ho pure sotto mirino Ma non mi va Io anche Dai ah un colpo No 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 Mo si è andrati dentro Aspetta un attimo Ma perché ti scopri Ma perché ti scopri? Qui ci sei scopertissimo Non so Non so Non so Non so Non li voglio prendere Allora questi qua Devono salire pure sotto al ponte Quindi teoricamente Possiamo pure aspettarli qua Senza farci vedere Ecco ci sta pure una cassa facile Si sta un airdrop qua Facile quanto Facile facile Non lo è stato Non lo è stato Eccoli si stanno fightando Uccidiamo quelli cattivi Mira lì Quelli che si costruiscono No sinistra 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 No sinistra Sinistra Li vedo li vedo Ok sta scendendo uno Si costruito Sto all'angolo di mezzo Dai 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 Eh ho finito la munizione Io ce n'ho pochissimo ma c'è chinato porco zio mi sto sparando attento lello non sono scarsi sono scarsi fidati no erano scarsi fidati li potevo uccidere io stavo a guardare pure di la manco mi ho visti coliccio e pure l'ho sbricciato male 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 vogliamo provare l'altro gioco no dai proviamo allora ciao ragazzi ci vediamo ci vediamo nell'altro live